eccoci tornai su ark come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie allora raga per quanto riguarda oggi ci abbiamo un bel po' di coccodrilli ma ancora non sono pronti praticamente avevo trovato un altro coccodrillo del livello massimo quindi nulla sono andato a pieghiarlo e niente ora ce ne abbiamo un bel po' l'unica cosa voglio potenziare le cell prima di provarli ad utilizzare contro il primo boss anche se non ho ben capito se pacific e atlantico sono praticamente lo stesso tier oppure no perché effettivamente il livello della crocchetta è lo stesso l'unica cosa che leggendo su discord praticamente atlantic dovrebbe essere praticamente la versione apex mettiamola così invece quella pacific è la versione alfa quindi tocca vedere un attimino tra l'altro qua che c'è atlantic megalodon si però preferirei prende quella specie di barracuda che secondo me se portiamo qualche boss in acqua e poi proviamo col barracuda top perché quelli in tanti sono veramente cattivi avevo visto troppo estrone là davanti a parte questo è spawnato praticamente un t-rex apex però della variante shiny quindi spero sia insomma di livello 720 la verità ora ci spostiamo un attimino e andiamo a vedere ma me lo so portato un coccodrillo dietro vabbè che c'ho pure il giga in realtà fatemi vedere giusto un attimo eh cavolo no c'ho il dilo vabbè non è proprio la stessa cosa però ci lo facciamo andare bene qua c'è un t-rex però t-rex purtroppo vanilla peccato oh apex direwolf il problema del direwolf che non c'ha la sella a meno che non è moddato e ce l'ha non costa neanche tanto la verità potrebbe anche essere un idea uh bello questo però via 1.7.000.000 nonostante sia il livello 20 è abbastanza incredibile la verità adesso è proprio onesto per quanto riguarda gli artefatti in realtà due cave le ho trovate l'unica cosa non c'è l'artefatto dentro anche se stiamo in giocatore singolo e praticamente ho aggiunto il cromando prevent ibernation sostanzialmente dovrebbe far spawnare anche le creature che sono oltre il nostro raggio visivo tipo dall'altra parte della mappa spero che insomma quindi a un certo punto ci spawnino gli artefatti che se lo faccio vedere e poi non c'è l'artefatto è un attimino inutile no? quindi aspetto un attimino poi magari ci riprovo ad andarci tra un paio di episodi così teoricamente caspita eh ci dovrebbe spawnare che cavo perché praticamente quando abbiamo provato sta mappa nel giocatore singolo no scusate sul server svariati mesi fa bene o male gli artefatti erano comunque in giro per il mondo all'aperto quindi era un attimino più semplice io faccio le stack perché comunque se c'è qualche carco o qualche giga lo andiamo a togliere da mezzo no? l'unica cosa che ho messo il comando preventi ibernation non mi sa che tipo mi ha fatto tipo il wipe dei dino in automatico mettendolo il che è abbastanza strano la verità però vabbè piano piano s'andrà a refullà uuuuh colossus egus uuuuh però è bello quello dai vorrei pigliare verità vedi che do più ma sa che ce lo pigliamo ole non mi attaccano bello 600 caspito di spawn a 720 mannaccio ah è bellissimo comunque gigante cavo dai mannaggia ui mi dice passivo ma eh c'è un problema non mi esce il comando tipo ma ma mi sa che dice passivo ma in realtà è k ho sapete e invece no gli devo proprio salta sotto alla pancia eh ma così mi diventa un attimo complicato scusa proprio perché è gigante poi c'è quest'altro che mi rompe le scato allora amico cominciamoci a capire o tu fai i fatti tuoi se no ti addormento un attimo è pace cioè ci vuole un attimo non so quanto mi conviene addormentarla la verità ma se che ti tolgo direttamente da mezzo quasi vuoi no non ti mangia quell'altro eh cavolo il tutto sta diventando un attimo più complicato del previsto c'è assurdo ok accalmato è accalmato il problema che gli devo tipo salta sotto alla pancia cioè non è proprio semplice ok no non me l'ha attaccato per favore come se lo set al teaming no 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 caspita eh mi sa che è qui toccavoli dovevo togliere da mezzo il draghetto spinoso sbagliato dice perché quell'ora ci rompe le scatole questo comunque ti avevi mangiato 10 volte anche se c'è scritto che ho mangiato 10 volte ma è già con 2 ha fatto 25% quindi in realtà altre 6 c'è la matematica in deno opinion noi siamo tipo mini sopra di lui ma è tipo bellissimo spero che faccia una quantità di torpore abbastanza notevole perché potrebbe essere anche un'opzione per quanto riguarda fatto comunque torpore edino apex no col fatto che gli vai a mettere l'imprinting gli vai ad aumentare il danno è del livello massimo può essere un'alternativa no così anche magari da evitare le craft a 8 miliardi di frecce poi non so effettivamente visto che colossus è tipo c'è anche l'hitbox gigante poi comunque con l'aggiornamento da bearish non c'è anche tutta la questione per quanto riguarda i tratti quindi poi alla lunga dovrebbe anche cercare determinati tratti che aumentano magari un pochettino il danno un pochettino a resistenza non lo so comunque quelli in attimo più utili e toccherebbe anche capire se possono staccare tipo se vado a prendere quello che ovviamente è il danno del 2,5% se magari mettendo nei 5 è fattibile arriva a 12,5 quindi non credo perché sarebbe troppo OP però perché diciamo singolarmente i vari tratti sono una bella aggiunta perché sono una bella aggiunta però secondo me un attimino in più le stat le dovevano boostare ecco del bonus che le vanno a dare ecco perché stavo a vedere manca a farlo apposta tipo un'oretta fa e niente comunque i valori che so per ogni singolo tratto non so proprio altissimi comunque per vederli è facile basta andare su Awi che è tranquillo c'è tutta una lista se possono vedere ora un attimino in teoria dovrebbero mangiare altre due volte vediamo un po' te calmi per favore ecco spero solo che faccia una buona quantità di torpur l'unica cosa al finale non si è mangiato neanche tanto crocchetta ok caspita in mezzo agli alberi non stavo a vedere per fortuna che comunque lampeggia da sotto no ole grande così salvo pure i dati giusto per sicurezza ok allora mamma mia eh comunque il torpur è una favorita 10.000 ma aspetta un attimo c'è anche il bonus mi riesco a baccare questo avanti assurdo cavolo non mi dà l'effetto quello del carca però la catena apex è abbastanza strano e particolare eh già questi qui hanno però a riduzione del danno un attimino ovviamente il danno imprinting ok per capire per capire non gli dà l'effetto del carca l'unica cosa l'hitbox con la testa non riesco a capire dove c'è la brutta sensazione visto che è gigante c'è tipo l'hitbox strano colpin test è un po' di legno lo fa ma neanche tantissimo ok l'anchilo vulcanico forse è un po' tomatch avrete però vorrei provare su qualcosina quanto torpore fa ur che comunque non tantissimi livelli però un po' dai ce l'ho tipo questo paracer è una musica non dura troppo poco qua è tutto vanilla servirebbe qualcosa che non sia vanilla spizioso comunque peccato che il cane bulbo non lo puoi mettere sulla spalla perché in realtà sarebbe stato comodo col fatto che se c'è una qui fa vicino c'è comunque quel bonus no 7500 però credo c'abbia il potenziamento di coppia non fa proprio tantissimo danno però col torpore tutto sommato non è neanche troppo troppo malo è l'unica cosa che ha carne non la posso togli non la posso raccogli con lui rischio passivo qua non credo ci sia niente la verità parto un po' sulla sus 580 speriamo che gli vanno a mettere qualche tier a quello le un po' domantili e almeno facciamo un po' di polimero anche se mi ha tirato un po' di bot lag ole ah ma questa è viva ancora piglia tutto tanto poi smista l'autosorter quindi tranquillo eh perchè non c'è niente da mod dato per provare tra l'altro lui che tratto c'ha colossus eh caspita però non mi dice che ti dà credo che sia comunque un tratto senza effetto perchè gli altri tratti mi sembra che ti fa vedere comunque stesso in gioco quello che te danno poi magari mi sbaglio però comunque ripeto basta di su acquig un attimino in base al tratto che bonus da da titanic teed queen e spawnata eh ok va bene anche se in realtà non sono acchillata quindi ma capì dopo tra l'altro posso sparare pure da sopra lui si eh però caspita mi sa che tocca metterlo un attimo in trasferet c'è qualcosa d'utile questa ma ripiglio poi magari dato dopo fa niente allora tero ecco da qui no cavo c'è ma tu c'è 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 co c'è do E complimenti al T-Rex Cioè peccato che comunque Sia vanilla perché sennò Un bel T-Rex Colossus Wow c'è nel senso Poteva essere abbastanza epico Ah ci sono pure questi qui Anche se è stato tipo nerfato 800 volte quindi Uuuuh che roba è qua sotto Che cavolo Bionic Enforcer 384.000 di vita però è comunque di livello 260 con 27 livelli Quella vita è comunque abbastanza notevole Poi comunque L'Enforcer Cioè nel senso Non è proprio Ah il T-Rex è questo ok Non c'è tanta vita volevo provare col cavallo Però mi sa che a me conviene Qua sopra mica ci arrivi no Cavolo me la sono bagnata Oh oh Ti con calma con calma Sta tranquillo Sta sereno Uh caspita quanto cavolo Torpo ci ho No eh C'è assurdo Uuuuh No vabbè che cavolo Ma sembra abbastanza ridicolo Che lui riesca ad arrivare qua sopra Però ehi Forse posso Mamma che ha paura Se mi metto l'optero vicino Non è che mi dà il bounce Pure almeno Prima o poi Pur riesce a darmi un mors Garantito proprio Ecco qua Prima tempesta della luce Manca solo che ci viene una meteora in testa Può sa quante risate Non molte in realtà Comunque 101 in danno Non è neanche male Peccato quei livelli In cibo Però vabbè Ma che Boh vabbè Roba strano Fa capire Sapete qui che andava a finire così Guarda è incredibile È scriptato comunque È veramente Una cosa Un po' Assurda Vabbè Facciamo finta di niente Ma sono mangiato Prima la crocchetta Bravo Ah cavol Apex è uscita in Raged Però Perché pure gli allosauri In realtà in gruppo Non so proprio malissimo Non so proprio il mio dino preferito La verità Però Ehi Non so neanche male La verità Ma dovrei fare tipo Una rinognata moddata Perché almeno così Spari in volo Veramente un botto utile Ma un altro colosso Si è uscito qua Avevamo killato prima Ma sbaglio Non credo Apex 460 Qua non credo Sia una cave Eh ok Ma salvo Allocation Ma voglio un attimo Andar a finire Quel taming Salvamolo così Poteva essere carino Aggiungere i magmasauri Proprio qua sopra Dove c'è il vulcano Sapete Assurdo Che comunque È bello ampio Come spazio Poi continuo pure Allora Noi siamo Morti Di qui Che sta succedendo Là sotto Il problema è Il grifo Non ce l'ho più Invece si Non so perché Mi ricordavo Che era morto Però Ehi È vivo Meglio così Devo fare attenzione A quello lì Perché C'è una skill Ad aria Abbastanza incredibile Poi c'è un gaccio Sentite il rumore Del cristallo Non lo vedo Apex Rex No Non sei tu È il T-Rex Nostro Che fino a fatto Scusa Uh caule Eh Quello è bellino Ma Non mi dica È morto C'è nel senso Di là No È il carca Quelle alfa Ma no Purtroppo C'è pure un Pegas Allora Vediamo un attimo Questo Rex Rex 200 metri Non mi dica È dentro La montagna No dai C'è C'è ma Guarda che fortuna C'è T-Rex Shiny No è qua In realtà Ma che Caspita Sta succedendo Oggi C'è oggi Parlamo Non si rompe mai niente Solo oggi Si rompe Il tutto Allora Vedo un po' Do fridge Eh ma non posso Stare così Questo Drifone è comunque Vanillo E sta P-N-Alt Ma ora Ho pure Qui Meso B-Taco Che Mette A litigare Mannaggia Che Caspita Ma guarda C'è Boh Vabbè Come sta Torpore Non benissimo Però neanche Mala Metà Non capisco Perché c'è Sta riduzione Dando Perché in realtà La freccia Dovrebbe fare Tipo 900 Qualcosa del genere Ma se continuassi Tipo col cavallo Salvo pure i dati Anche se Ma sa che Eh infatti Sto Caspita Di insettino Mi sono Magnato Un'altra Crocchette Vediamo Un po' Uh No vabbè Non è full Abbastanza Ma di là C'è Un bot Incredibile App'assurdo Funziona Non ci contavo Troppa A verità E' un po' Difficile Hitbox Essere Sincero Non andai Giù Dai Per favore Portata Bene Non c'ho pure Un cavolo Da vita Che purtroppo E' abbastanza Incombrante Ok Basta Allora Quante crocchette Sono 10 Non capisco Se il paracero Vuole effettivamente Rompermi le scatole Oppure no Allora Le crocchette Le mettiamo qui Split Hit 10 Ok Tu torni qui 10 a te Senti Pegomastax Mannaggia Il problema è che se un Pegomastax Alfa Te salta addosso E' un po' Un problema Ok Allora Vediamo un po' Caspita Quanti livelli in cibo Peccato 149 in danno Non è male Ma in realtà 180 livelli E' un attimino meglio Vabbè Fa nulla C'è comunque Mezzo milione di vita Attenzione Se ne riuscissimo A beccare un altro paio O almeno Un altro Si potrebbero anche Mettere da coppia Per provare poi Ad affrontare il boss Caspita Quanti T-rex Ci sono Ah Uno è Storm Ok Allora Si giga Li toglierai di mezzo Un attimino Perché almeno Così respawno Un altro Assurdo Sta mappa Qui con una missa Cioè scusate Con l'arcomica Sarebbe stata meglio Perché almeno De giga Non spawna Una quantità Non dico industriali Ma Abbastanza notevole Vabbè Tu stai dentro La lava Ma niente Spero soltanto Ci sia anche Il carcamo Dato Che se no Un po' è cato E comunque Bellino Da quant Ok Perfetto Togliamo di mezzo Pure questo qui Non ci ho pensato Potevo utilizzare Il T-Rex Che almeno Livellava Caspita Vabbè Magari Gli facciamo La sella E ce lo portiamo Che qua in realtà Perfetto È tipo top E comunque Loro L'hanno un botto Da X Questo Questo non si è capitato Dove è uscito Ma Fa nulla Ok E già che c'è sopra A sto punto Mi ricordo anche Un attimo Un altro Pato polimero Che comunque Dunque a un certo punto Un pochettino Ah possiamo potenzia 82 82 Caspita Già ci fermiamo Vabbè che 82 Comunque non è malo Insomma Speravo Andasse un pochettino Più su A verità Allora Vediamo un attimino Dove ce lo andiamo A livello Non so se mette Più Vita Così resistete Più Ok Forse Con lui È un po' Troppo Non so se Mette vita Per resistere Più contro Il boss O tipo Aumentate più Il danno E potenziate Più La sella Però È È abbastanza Tragica Vabbè che comunque Dovrei trovare un altro Perché se no Se ci muore È un peccato La verità All'inizio La verità Volevo provare Con I coccodrille No Però a questo punto Se riuscissimo A trovare un altro T-rex Cavolo Non sarebbe male Perché almeno così 10-12 T-rex Secondo me Ce la potrebbero Pure fare Voglio provare a Faitare Sto spin O spizio Allora Pozioncina Dall'imprinting Grande così Lascio pure La pozione Dalla vita Che non si sa mai È 15.000 Senza livelli Ok 2300 Ci fa lui Nonostante Abbia il potenziamento In acqua No Ma secondo me È un po' assurdo Ce la potremmo Anche favorita Col boss Dico Non Con lo spin Lo spin Proprio Ce lo siamo mangiato Alla grande Con un livello In vita A quanto arriva 686 720 Vabbè guarda Facciamo che Te porto Un milione Di vita Poi tutto il resto Mettiamo Danna Poi c'è anche Da considerare Un'altra cosa Che comunque Con il potenziamento Delle stack Non so effettivamente A quanto arriva Però con 100 stack Un bel po' Da danni in più Comunque dovrebbe essere In grado Di farlo Anzi Sicuramente Mi farà un bel po' In più Ora magari Faccio un attimino In giro Lo porto A 100 stack E niente Vediamo Effettivamente A quanto Arriva Ecco Ovviamente Se ne troviamo Un altro Che c'è più livelli In danno È ancora meglio Ma altrimenti Credo che Comunque Faccia comunque Un danno Abbastanza Notevole Carcino Sto di ghiaccio Mezzo al verde È abbastanza strano Però Ehi Fa nulla Quindi nulla La porto Un attimino A 100 stack E ci vediamo Tra un attimo Tra l'altro Non so che abbiamo Anche terppato Qualcosina Eh Va capito V'hai però Boh Non si vede E niente Ragazzi Vediamo Tra un po' L'unico problema Da fare le stack È che quando Sono lontani Dino Caspita È abbastanza Tragica Comunque Tutto sommato Dai Con 60 Già fa Praticamente Caspita Che De 50 Quindi Veramente Non male Mi piacerebbe Trovare qualcosina Di interessante Che resista Un pochettino Tipo Quello lì Ok Quello Forse Un po' Troppo Stavo Scherzando Speravo Fosse Un attimo Di un livello Più basso Perché in realtà Come danno Cavolo Fa un botto Fa un casino Cioè abbiamo Probabilmente Pelle Normale Vanilla Tutta la serie O comunque Più o meno Però Tipo sul fiomio Vabbè L'ho piede in testa 185 185 Ecco Tipo Su Stanchilo L'anchilo C'ha la riduzione Del danno Però vulcani Come sa O comunque Tutti Di no vulcanici Forse Un po' Troppo Tipo Cosmetici E niente Ragà A verità Non è per niente Malso T-Rex Spero Di riuscire A trovare un altro A breve Almeno così Si cominciano Ad accoppiare Un altro Secondo me Veramente carino Che andrebbe provato Per lo spino Perché c'ha Sia il potenziamento Del carcotonto Saulo Quando è Apex Sia comunque Il potenziamento Anche appena Tocca con i piedini L'acqua Quindi Veramente Non male A parte questo Nulla Spero che comunque Questo video vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un commento Mi piace E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ciao belli